A Scafati in via Cesare Battisti, in questo palazzo che vedete alle nostre spalle, al primo piano, è iniziata la nuova avventura di Danilo Iervolino alla guida della Salernitana, nello studio del notaio Francesco Coppa a mezzogiorno. È stato firmato l'atto che ha segnato il passaggio di consegne dai trastì all'imprenditore Campano. Tanto entusiasmo tra i tifosi che sono arrivati anche a Scafati per far sentire la propria vicinanza a Iervolino. Volevamo essere una società per conto nostro e lui ci ha donato questa grande gioia. Il Presidente è una brava persona, speriamo che non si gagne, oppure che i spettatori non fanno i cipastriati e se ne fanno tutti qua. Speriamo bene, speriamo che ci sia attaccamento alla città, alla tifoseria, spero che sia stato attratto soprattutto da questo, dal calore dei tifosi e quindi siamo fiduciosi, torniamo allo stadio. A Scafati per augurare buon lavoro al neopresidente della Salernitana è arrivato anche il generale Ugo Marchetti, amministratore unico che ha traghettato il cavalluccio marino durante i mesi del Trust. Questa navicella che sta a navigare è navigato anche molto bene, ossia adesso ha un grande condottiero e quindi andrà ancora più lontano. È giusto che sia così perché Salerno e la Salernitana non meritano. Gli Ervolino alle 15.30 si presenterà ufficialmente alla città. La conferenza stampa dell'imprenditore Campano sarà trasmessa in diretta da 8 Channel 696.